Il 3-0 della Fidelis sul campo del Santa Maria Cilento porta a 4 le vittorie consecutive e quindi conferma il momento magico della squadra bianca azzurra. Ci lusinga da una parte ma ci fa stare sempre con i piedi per tre dall'altro. Il dato certo per il quale ci vogliamo battere è il secondo posto. Combatteremo partita dopo partita vendendo cara alla pelle e poi fino alla fine vedremo che succede. E' stata un'altra partita difficile, sia pur contro l'ultima in classifica, dove l'Andria ha dimostrato ancora una volta di saper soffrire, magari aiutata anche da un pizzico di fortuna, quindi condurre in porto un'altra partita delicata. La classifica soprattutto quella delle parti basse non va più guardata, soprattutto mai più sottovalutate le squadre avversarie che coprono quella parte di classifica e quindi gestita volta per volta con degli innesti chirurgici cercando di trarne il meglio per ogni avventura che ci aspetta di domenica in domenica. La partita di domenica scorsa ha portato sugli scudi un giocatore come Giambuzzi che è stata una delle sue intuizioni di inizio campionato. Sì, ho conosciuto Esteban a matino in una sfida che avemmo per vincere il campionato in Serie D, in quel caso l'ha persi, mi colpì allora, l'ho avuto l'anno scorso come tutto l'anno, gli ho dato fiducia quest'anno ed evidentemente non mi ha deluso, anzi è diventato per me motivo di orgoglio. A proposito di testa coda, anche domenica prossima ce n'è un altro contro il Gallipoli. Il Gallipoli è una squadra assolutamente non sottovalutare, soprattutto per quello che accade nel giro di andata. Alla base, indipendentemente dal risultato, ci sarà rispetto per la famiglia Carrozzo, Vincenzo e Lucia con i quali ho ottimi rapporti, quindi mi preoccuperò in primis dell'accoglienza, poi 90 minuti a versare in campo, fuori amici sempre. Avete fatto una tabella di marcio da qui fino alla fine della stagione regolare? Cercare di vincerle tutte.